Se vuoi... No, ma... Voglio vedere... Eh, no, ma per i coi... C'è un caldo alternativo... Ma no, non c'è bisogno, basta che non ci puoi andare a vedere nessuno, perché non ci sono i miei soldi... Ah, sì, sì... Adesso sarà una couturia da vedere... Eh? È lunga quattro minuti, credo... C'è certo... Allà? Sì. Guardate si sono qui... È un testo e il testo di non andare per cattare come bellissimo, perché non ci vuoi andare a vedere... Mi hanno i Leonardo a noi, per me, per me, il proprio a quello di mezzo... ...degre che che dovevo in profesa... ...mongiorno al piano per una cattura, per me, per me, per me… ...d throwback... ...d throwback... ...d throwback... ...d throwback... ...d throwback... Questa è tutta così, dall'inizio alla fine, praticamente. Lo so, lo so. Sì, più o meno. 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 Sì, più o meno.